In Austria le violazioni della quarantena stanno portando all'inflizione di pene detentive. Apre la porta e intima l'ufficiale di controllo. I serrati controlli intrapresi dalle autorità sono dovuti al fatto che non tutte le persone positive al Covid-19 sono state trovate in casa. Eclatante il caso di una signora 49enne di Klagenfurt che ha destato non poco scalpore. Solo pochi giorni dopo che la donna si era rivelata positiva al coronavirus è andata al supermercato per inviare denaro. Non è chiaro se indossasse o meno una mascherina. In tribunale la donna, di origine bosniaca, giustifica la violazione della quarantena con un'emergenza familiare doveva inviare denaro a sua figlia malata. La conseguenza? Una multa di 800 euro e sei mesi di carcere con pene sospesa. Il giudice spiega la dura sentenza. Perché lei, in quanto portatrice di Covid-19, era responsabile del pericolo corso dalle altre persone, dice. A detta dei ricercatori esiste il rischio di infezione se si trascorrono diversi minuti in ambienti chiusi vicino a una persona con una carica virale elevata. A tal proposito l'intenzione della Corte era quella di dare un segnale. L'aspetto preventivo generale in questo caso è essenziale, ribadisce il giudice, il che significa dissuadere gli altri dal commettere reati simili. Potrebbe non rimanere solo una sentenza dissuasiva. Diversi casi penali per violazione della quarantena sono attualmente pendenti o impugnati in Austria e sono previste anche sanzioni più elevate. Grazie. 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 Grazie.